Professor Lutwak, l'Italia doveva partire più forte, poteva partire differentemente dal 4 maggio? Abbiamo appena sentito. Esattamente l'unica possibile maniera di gestire questo in maniera intelligente. Perché si deve accettare il contagio fino al limite della capacità di gestire i malati più gravi. Se tu hai capacità per gestirne X, puoi avere più contagi. Perché il contagio è l'unica via d'uscita. Questo virus non sarà fermato dal padre Pio, né da un vaccino, fino a che questo vaccino arriva e viene fatto in miliardi di copie. Quindi abbiamo appena sentito come si deve fare. Tutte le altre maniere sono sbagliate. Allora, in Italia ci sono stati due fenomeni. Uno, come è stato spiegato, che si è abbattuto, il contagio non era scoperto fino a che non è esploso. E strutture iradequate erano sommerse. Questo è molto sfortunato. Però da quel momento si poteva già fare certe cose, come i cantieri sulle strade. Qui in Merlin, dove vivo io, il virus è lo stesso. Ma appena è cominciato il problema, hanno detto che c'è meno traffico, hanno fatto tutti i lavori stradali, hanno lanciato cantieri. Così quella parte dell'economia vive. Bisogna usare la formula che ci è stata spiegata dal collega, dal virologo Göttingen, di misurare questo e aprire il massimo. Perché bisogna aprire il massimo? Perché se no si scivola in una situazione di povertà. Abbandono povertà.